Nuovo atto intimidatorio perpetrato ai danni dell'associazione Insieme per Fontanelle che assieme a codici si batte per il ripristino della legalità nell'omonimo quartiere della città di Pescara. Nel corso della notte i gnoti hanno procurato uno squarcio al tir di proprietà di uno degli attivisti di Insieme per Fontanelle. Camion che era parcheggiato come sempre in strada sotto casa e che ora è stato sistemato in un piazzale privato non distante. Un attentato preannunciato questo qui perché per le sue attività appunto a tutela della legalità era stato minacciato dicendogli prima o poi te lo faremo pagare. Questa notte gliel'hanno fatto pagare. Lui è un padre di famiglia, vive del proprio lavoro, ha un mezzo, un camion e gli hanno taglieggiato tutto il telone del camion a sfregio. Questo è l'ennesimo attentato, il settimo attentato in 4-5 mesi qui in Via Caduti per Servizio. L'allarme resta alto e la situazione è esasperata. Non è possibile che lo Stato, nonostante tutto quello che è accaduto, sia così assente, dicono. Il rischio è quello di iniziare a farsi giustizia da soli. Avevamo chiesto un'unità mobile di polizia fissa H24. Se ci fosse stata quella unità sicuramente non avrebbero taglieggiato quel mezzo perché era parcheggiato proprio in Via Caduti per Servizio e proprio lì noi chiedevamo quest'unità mobile. Ce l'hanno data solo per qualche mese, a ottobre e novembre del 2012, il 31 dicembre hanno tolto questa unità fissa di polizia. Non abbiamo capito il perché e il per come, inspiegabilmente c'è stata tutta e continuiamo a vivere questa emergenza. La situazione più grave da dire è che la società civile organizzata e i cittadini si vogliono organizzare da soli. Questa mattina eravamo riuniti e stavamo parlando di come organizzarci i cittadini perché non c'è lo Stato, perché non riescono più a vivere in questo modo. Allora loro dicevano che se ci attaccano in questo modo non dobbiamo essere pronti a rispondere. Grazie a tutti.